Sì, mi danno tanta fiducia e tanta responsabilità e sono molto contento. Stanno dietro di me e faccio tutto in campo per portare dietro risultati per queste due persone molto importanti, per il club e per me. E così posso solo parlare in campo, con i miei due piedi. Questo è sicuro, perché hanno fatto un gran lavoro per Milan, hanno portato trofei in poco tempo, possiamo dire, 20-30 anni. E poi sono conosciuti di quelli che hanno fatto per calcio e soprattutto per Milan. E non vedo altre cose di cambiare, perché loro sono simboli di Milan e continuano a fare la storia, come sempre. Tanto. Perché noi siamo campioni da un anno fa e vogliamo essere campioni anche per il prossimo anno. Ma mancano sei partite, abbiamo sbagliato in qualche partita. È normale, secondo me, perché il campionato è lungo, non si può fare partite perfette ogni partita, 38 partite. Ma adesso mancano sei, siamo un punto meno. Ma se siamo concentrati e mettiamo la testa dove lo vogliamo, è sicuro che arriviamo prima. Ma non solo Fiorentina. Se tu guardi un po' dietro altre partite, come Catania, era una partita di vincere e poi altre partite che si sbagliava. Ma dopo le partite si può dire tante cose. Ma è importante essere preparato per la prossima partita, di non ripetere dove si sbagliava e dove non si faceva bene. E' importante non ripetere e poi fare il migliore possibile per il prossimo partito.